buongiorno questo è un video di anticipazione allora siamo dove siamo francozzo come stai tutto bene e che faccio l'inquadratura pescatore pescatore dove siamo zona ovest della sardegna zona ovest tu stai pescando qua da quanto vorrei farvi vedere dove sono le canne da pesca quant'è che sei fuori lì 50 metri 100 metri è una laguna è la prima anticipazione nel video io starò qua una settimana con francozzo pescare cosa hai fatto stamattina ho fatto due spigolotti ce le fai vedere dai facciamogli vedere mettiamo l'acquolina in bocca a due ne fate cazzo va quella lì o maron la tira da fuori un attimo due spigolotti è un branzinello questo da fare ancora vabbè questa è un'anticipazione aspettate il video una settimana di tempo c'è poi ci sarà il montaggio e tutto e vabbè a presto